Salve a tutti ragazzi, sono sempre il vostro Vincenzo, e con tutti ragazzi siamo su Roblox Tapping Simulator Ragazzi, quest'oggi, oh yes No, ma che cavolo ho fatto? Ma non qua Ragazzi, quest'oggi si va a caccia del nemico misterioso, quindi direi che andare, vai Vai, vai, vai Ok Vai Facciamo tutti questi, e via Dai, ed escemi fuori Descini fuori Niente Oh guardate, mi sono potenziato tutto No ragazzi, è difficile Boh Da ci vedrai, io no No Grazie a tutti. Dai. Grazie a tutti. Niente ragazzi, non sto uscendo niente, niente. Boh. Eh, caspiterina ragazzi. Grazie. Boh. Niente. Un'altra volta niente. Un'altra volta niente. Niente. Cavolo. Bello. Bello, sì. Wow, bellissimo. Fantastico. Ok, vai. Miner cat. Miner cat. Miner cat. Miner cat. Miner cat. Miner cat niente. Miner cat. il nulla il nulla più totale nemmeno il nemico misterioso è qualcosa di incredibile non lo riesce a trovare ma che è ragazzi no niente è infattibile è infattibile è infattibile mi dispiace ma è infattibile a sto punto no 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 eh niente insomma non abbiamo trovato niente tranne qualche leggendario così ma per ora niente è raro e molto raro ragazzi il nemico misterioso è rarissimo pensavo di trovarlo ma mi sbagliavo mi sbagliavo di grosso a trovarlo è veramente difficile è difficile trovarlo è difficile è impossibile ragazzi però ma un leggendario almeno il nemico misterioso ragazzi niente niente che peggio risolto lo chiamo un nemico leggendario in verità è misterioso eh lui non non si sa chi è però dobbiamo trovare il nemico misterioso beh 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 buongiorno vedi epici cose robe varie queste mi escono questo fanculo va reclamo reclama grazie grazie difficile 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 è impossibile so ragazzi che da un momento all'altro può uscire il nemico misterioso però così non va bene non è che è impossibile poi ragazzi è fattibile soltanto che non lo so ci deve avere proprio fortuna a trovarlo è un po' in giotto che dicono no e qua mi guardate mi escono solamente questi beh questi mi escono e basta niente e ma esci mi però ed esci mi bastardo esci mi no mi deve uscire mi deve uscire eh ma non tu eh che cavolo si vabbè ciao ciao vabbè si 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 capito che è una roba incredibilmente difficile da trovare eh il nemico misterioso va ma 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 magari non lo so no A presto. Dai. Potenziamenti. Boh. Niente. A sto punto. Lo vedo. Un po' impossibile. Inzomma. Ed esce. Ed esce. Niente. Non esce niente. Che cavolo. No. Grazie a tutti Niente Roki Vai Roki Grandissimo Roki Dai guarda Ecco fatto Aprile così Vai Vai Esce ancora dai Bravissimi Niente 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 Cioè ragazzi Non lo so Cioè questo ragazzi Sto leggendo Qua rosso Mi sta uscendo Chissà quante volte Un nemico misterioso Niente 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 Sti cavoli Eh ragazzi Niente Il nulla più totale Bravo E ho utilizzato Guardate quanti supporti Per trovarlo Niente Bravo Bravo Nemico misterioso Che non ti fai trovare Bravissimo Mi raccomando Beh Vabbè Vabbè ragazzi Ciò mi raccomando È roblox